Parliamo di un gioco, quello degli scacchi. Sulla sua provenienza ci sono varie tesi, ma nessuna certezza. Le prime testimonianze storiche risalgono ad oltre 2000 anni fa in Cina ed in India. Nei secoli il gioco venne conosciuto dai persiani ed infine dagli arabi. Durante il medioevo il gioco ebbe un notevole sviluppo nel vecchio continente. Nelle corti e nei castelli era d'obbligo saper giocare a scacchi. Oggi saper giocare a scacchi non è un obbligo, ma è praticamente giocato da chiunque, come lo dimostra il servizio che fra poco vi presentiamo. Si sono presentati 130 giocatori alla decima edizione del torneo internazionale di scacchi, città di Biella. Il torneo ha avuto luogo nella biblioteca di Cittastudi. Nel torneo principale, riservato ai giocatori più forti, la vittoria è andata al maestro fide salernitano Giuseppe Lettieri. Il trofeo resta quindi in Italia, dopo diversi anni nei quali aveva preso direzioni oltre frontiera. A contendere fino all'ultimo la vittoria al giocatore campano è stato il giovane maestro biellese Giovanni Siclari, scacchi club Vallemosso, autore comunque di un ottimo torneo che lo ha piazzato al terzo posto finale. Al secondo posto si è classificato il maestro comasco Lorenzo Cocconcelli. Da ricordare a sorpresa la non presenza, tra i premiati, del grande maestro russo Sergei Ivanov, vincitore delle ultime due edizioni, giunto solo decimo e sconfitto al quarto turno dall'esperto maestro biellese Marco Ubezio. Tra i 130 partecipanti, circa il 50% di giocatori era sotto i 16 anni. Grazie dell'attenzione, dalla redazione di Biella è tutto, grazie, arrivederci.